È semplicemente una farsa, che lui non la vede una cosa normale. E ha detto di non pagare niente, penso che l'avete sentito. Io ho detto no, pagare non pagherò sicuramente, al massimo mi faccio tre mesi al posto di due. Proprio perché pagare 4.550 euro in questo momento per me sarebbe molto faticoso. Visto che sto dedicando il mio tempo a questo problema, sto trascurando anche il lavoro. Poi le spese, come voi sapete, ce ne sono tante per affrontare un processo. Però la cosa strana è che a me dispiace che il primo condannato di tutta questa vicenda sono io.